Anche questa me l'avete chiesta in tanti, ma ho aspettato la fine dell'estate. Questi video possono essere parecchio tedianti e come dicevo in alcuni video precedenti, li faccio solo perché vi adoro, visto che non se li guarda quasi nessuno le video analisi. Parliamo di Caterpillar, un buy, un hold on sell, vediamo tutto dopo la sigla. Ah già, io la sigla non ce l'ho più, l'ho tolta, vabbè. Come per le precedenti analisi, oggi andiamo a vedere quali siano le condizioni e le prospettive di quella che a mio parere è la migliore da prendere sul mercato azionario americano in questo particolare settore, ricordandoci che queste sono solo mie semplici valutazioni e non consigli finanziari o di investimento. Prendete tutto come uno spunto e non come un invito ad investire, con le pinze, non quelle per i peli. Partiamo prima di tutto ad analizzare alcuni punti fondamentali del business e poi, come sempre, andiamo ai noiosi tedianti numeri nudi e crudi. Per questi numeri di lungo termine ho preparato, così come ho preparato per Union Pacific, un file Excel con uno storico di 20 anni, sia per il balance sheet, che per l'income statement, che per il cash flow. Per chi li volesse ottenere, come per il precedente video su Union Pacific, li potete trovare sul mio Patreon a costo di una colazione al mese. E compratevolo un caffè e un cornetto in più al mese. A voi, cosa vi costa? Dai, a me, mi aiuta. Partiamo. Prima di tutto, chi è Caterpillar? Caterpillar Incorporated è una delle più grandi aziende al mondo nel settore dei macchinari e delle attrezzature industriali. È stata fondata nel 1925 e ha sede a Deerfield, in Illinois, negli Stati Uniti d'America. Ed è nota principalmente per la produzione di veicoli per l'edilizia e per l'agricoltura, attrezzature per il movimento di terra, motori diesel, gruppi elettrogeni e attrezzature per la costruzione pesante. Fornisce in pratica una vasta gamma di prodotti utilizzati in vari settori, fra cui costruzione, estazioni minerali, agricoltura, trasporto, energia e molto altro. È un'azienda multinazionale con una presenza globale e una lunga storia di innovazione nella progettazione e produzione di attrezzatori pesanti. Il suo marchio, Caterpillar, che spesso viene abbreviato con CAT, così come il suo ticker sul mercato azionario, lo potete riconoscere su molte macchine da lavoro pesante che vedete in giro, come i bulldozer, gli scavatori e così via. Ha un totale al momento di circa 172.000 dipendenti, di cui 109.000 dipendenti fissi, con una rete sparsa per 192 nazioni diverse, con 152 concessionari. Ha fatturato 59.4 miliardi di dollari nel 2022, che includendo le internal sales sale a 69.9 miliardi di dollari. Questo ultimo dato ci serve per capire l'incidenza delle singole business units sul fatturato totale. Del fatturato totale, quasi il 60% viene sviluppato al di fuori degli Stati Uniti d'America ed in precisione il 59%. Da inizio anno 2023 ha donato quasi un più 57% di rendimento del solo capital gain, sul quale si aggiunge anche il suo 1.82% di dividend yield, con una distribuzione di 5.2 dollari lordi. E se lo yield vi sembra basso, quando vi faccio vedere lo storico del dividendo, capite quanto sia poco proficuo guardare solo lo yield, considerando che negli ultimi anni, beh, 29 anni, l'ha aumentato. E ha anche un payout poco di sopra del 28%, per cui ampio margine di movimento e ha avuto in medio un aumento degli ultimi 5 anni dell'8.9% su base anno. Infatti nel 1994 il suo dividendo era di solo 0.04 dollari e per cui 4 centesimi di dollari e oggi, come precedentemente detto, sta a distribuire 5.2 dollari per azione. Ma parliamo delle operation dell'azienda. Come è organizzata Caterpillar per le sue operation? Organizza le sue operazioni in diverse business units per gestire meglio le diverse linee di prodotti e servizi che offre. Le principali business units di Caterpillar includono Constructions Industries, industria della costruzione. Cosa fa questa unità? Beh, si concentra sulla produzione di macchinari per le delizie e le costruzioni, compresi bulldozer, escavatori, caricatori frontali e altri attrezzatori utilizzati nelle delizie e nelle infrastrutture. Questa unità contribuisce per il 36.2% con 25.3 miliardi di dollari di fatturato. Poi abbiamo le Resources Industries, industria delle risorse. Questa unità è dedicata alla fornitura di attrezzatura per l'industria mineraria, compresi camion da miniera, trivellatrici, scavatori per la miniera e alta attrezzatura per le estrazioni di minerali e risorse naturali. Questa unità contribuisce per il 17.6% con 12.3 miliardi di dollari di fatturato. Poi abbiamo la Energy and Transportation, l'energia e trasporti. Questa unità si occupa della produzione di motori diesel, gruppi elettrogeni, sistemi di propulsione marina e altri prodotti per il settore dell'energia e del trasporto. Questa unità contribuisce al 34% del fatturato con 23.8 miliardi di dollari di revenue. Poi abbiamo i Financial Products, i prodotti finanziari. Caterpillar Financial è la revisione finanziaria dell'azienda che offre servizi finanziari, inclusi i leasing, i finanziamenti, le assicurazioni per aiutare i clienti a ottenere accesso alle proprie attrezzature perché, come potete ben capire, non costano quanto le caramelle. Questa unità contribuisce al 4.7% con 3.3 miliardi di dollari di fatturato. Infine abbiamo un'unità chiamata All Other Segments, tutti gli altri segmenti. Questa categoria compende altre attività e servizi, fra cui le produzioni di attrezzature per la difesa, servizi di analisi e dati e altri servizi di supporto. Questa unità contribuisce al 7.5% di fatturato con 5.2 miliardi di dollari di fatturato. Questa business unit ha sovente fatturato in calo perché contiene anche le linee che sono in dismissione. Come dicevo prima, anche per CAT, come per UNP, ho preparato per voi un file Excel con un storico di 20 anni che potete consultare tramite l'iscrizione al Patreon a costo di una colazione. Fatela questa colazione al mese. Come diceva Sofia Lorenz. Andiamo a vedere questi numeri assieme, inclusi i nostri amati dividendi. Partiamo a guardare alcuni dati schematici per avere un'idea dell'azienda. E li vediamo in queste piccole slide. Il primo è tutto il dettio di valutazione. Il trailing P, naturalmente, è 17.78, mentre il foro da P razio è del 14.07. Il PEG, invece, è di 1.56. Abbiamo anche per l'income statement un qualcosina di interessante. 64.77 miliardi di dollari di fatturato. Profitto lordo di quasi 21 miliardi di dollari. Operation income di quasi 10.5 miliardi di dollari. Pre-tax income 10.99 miliardi di dollari con un net income di 8.36 miliardi di dollari. E un EPS, un ending cash share, di 16.06. Andiamo a vedere anche in maniera schematica il balance sheet. L'azienda ha un cash equivalence di 7.39 miliardi di dollari con un debito totale di 37.7. Un cash netto di meno 30 miliardi di dollari e un net cash per share di meno 58 miliardi di dollari. Attualmente ha un working capital di 11.7 quasi miliardi di dollari. Dal punto di vista finanziario comunque si può dire che è un'azienda abbastanza sana perché il current ratio è a 1.33, quindi sopra 1, e il quick ratio 1.11, anche questo sopra 1, per cui la danno come azienda abbastanza solida. Il suo debito su equity ratio è di 2.07. La copertura degli interessi dei propri debiti è di 23.80. Parlando di debiti andiamo a parlare anche della propria efficienza finanziaria. Il ritorno in equity è del 49.2%, il ritorno in asset il 10.10%, il ritorno in invested capital 15.4% e il fatturato per ogni punto dipendente 593 mila dollari e mezzo abbondanti. Passiamo all'ultima schematizzazione, i margini, il margin all'order del 32.4%, quello operativo 16.19%, quello pretasse 16.97% e il free cash for margin che è molto interessante di 12.34% e il profit margin di 12.91%. Passiamo a vedere i spreadsheet o il file excel, così come lo vogliamo chiamare, che ho realizzato per avere un po' i dati partendo dagli ultimi 20 anni. Prima di tutto andiamo a vedere un attimino quello che è l'income statement di Caterpillar. Partendo prima di tutto dal fatturato e dalla crescita del fatturato anno su anno. Come possiamo vedere dal 2002 in poi il fatturato è cresciuto, sì, passando dai 23 miliardi di dollari ai 59 miliardi di dollari del 2022, però ha avuto dei picchi diciamo nell'anno 2012 e 2011 per poi avere un leggero calo e avere una brutta batosta diciamo nel 2016 dove è scesa di nuovo a 39 milioni di dollari per poi ricominciare a risalire, a parte un piccolo contrattempo nel 2020, anno in cui i dati della pandemia si facevano vedere. E' lo stesso dato, lo andiamo a vedere sulla crescita più accentuale anno su anno, che ha avuto degli alti e bassi con crescite a doppia cifra tutti gli anni, ma anche quando è andato a calare ha avuto diciamo dei cali a doppia cifra. Per quanto riguarda il profitto lordo, questo è sempre stato un profitto diciamo in linea con quello che è il mercato della produzione dei mezzi pesanti, con cifre diciamo interessanti, intorno ai 18 miliardi, 15 miliardi, 12 miliardi di dollari, un profitto lordo che non è mai stato però in calo, anche se a volte ha avuto dei diciamo dei contrattempi con dei guadagni a singola cifra come nel 2009, dove ha avuto solo 7 miliardi di dollari. Intendevo non in calo, per intendere non è mai andato ad avere un profitto lordo di tipo negativo, nel senso l'azienda non ha mai dato degli esultati negativi, però di per sé il profitto c'è sempre stato e lo vediamo anche dal net income che diciamo è una cosa stabile, a parte l'espluato degli ultimi anni, appunto il 2020 è stato quello che è stato, però 2018, 2019, 2021, 2022 è sempre stato fra i 7 e i 6 miliardi di dollari, mentre in passato è stato un po' ballerino. Il dividendo operazione invece è sempre stato in aumento, passando dai come dicevamo prima 0,04 dall'origine del pagamento, ma diciamo dal 2002 da 0,70 centesimi, per passare ai 4,62 dollari del 2022, con una crescita del dividendo sempre, sempre positiva. Margini di profitto sempre positivi, a parte una piccola battuta dal resto, nel 2016, meno 0,17%, però diciamo margini di profitto sempre interessantissimi, nel 2022 e nel 2021 sono stati fra l'11,5% e il 12,5%. Passiamo al balance sheet dopo aver visto l'income statement, qui li vediamo leggermente più grandi avendo meno dati da mostrare, passiamo prima di tutto agli asset totali correnti, sempre stati a doppia cifra, passati dai 14 miliardi del 2002 ai 44 miliardi del 2022, praticamente in vent'anni si sono quasi triplicati o giù di lì, comunque sono asset correnti totali sempre in aumento, appunto non c'è mai stato una battuta dal resto. Per quanto riguarda gli asset totali, invece, in generale abbiamo avuto sempre un aumento, con dei picchi nel 2013 e soprattutto nel 2012, con 89 miliardi, attualmente sono 82 miliardi, siamo partiti dai 33 miliardi del 2002, ci sono stati dei leggeri cali, appunto, fra i picchi del 2012, 2013 e 2014, per poi ritornare appunto all'82 miliardi di oggi. Per quanto riguarda i lebiti a lungo termine, che sono cresciuti anche questi, passati dai 16 miliardi del 2002 ai 35 miliardi del 2022, così come gli ebiti totali passati dai 27 miliardi del 2002 ai 66 miliardi del 2022. Passiamo all'ultimo tab, quello del cash flow. Qui vediamo il net income nella prima riga, come abbiamo visto nel cut balance sheet. Per quanto riguarda il free cash flow è sempre stato positivo a parte 2002, 2003, 2004, con un picco nel 2013 di 7 miliardi di dollari, ma il cash flow si trova sempre fra i 6-5 miliardi di dollari e comunque dal 2015 è leggermente in crescita, perché si era partiti dai 4 miliardi di dollari per passare ai 6 miliardi di dollari di questo anno passato, il 2022. Cosa ne pensate di Caterpillar? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, ricordandoci che questi non sono né consigli a investire o non investire, ma solo spunti per scopo didattico e di approfondimento. In ogni caso, se questo contenuto ha portato un valore aggiuntivo alla tua conoscenza, fammi capire il tuo credimento con un bel pollicione in su. Se invece mi hai appena conosciuto potrebbe essere una buona, anzi un'ottima idea, cominci a far parte di questa community, di questa grandissima famiglia, con una maggiore presenza, la tua, iscrivendoti al canale e cliccando sulla campanella delle notifiche. Beh, io ti saluto e ci vediamo al prossimo video. A presto!